Adesso, fai una panoramica anche dietro Come mai c'è il pesce acento? Vogliamo la seconda! Senza grattare, possivelmente Ma se potremmo andare a sciurire? No, no, la sta buf Eeeh, la faccuna! Un po' lento, ma Il problema è metterla prima La prima non gliela metti La salita è morta La salita è morta La salita è morta Grazie.